Marcello Guidi ha scelto la città di Tolentino per dare il via alla sua preparazione in vista dell'inizio di una nuova stagione agonistica. La nuoto pallannuoto Tolentino ha ospitato per due mattinate Guidi, uno dei notatori più promettenti del panorama nazionale, che ha scelto proprio di allenarsi alla piscina comunale Caporicci. È un grande onore per la nostra città e per le squadre di nuoto della società che avranno l'opportunità di trarre ispirazione dalla dedizione e determinazione di un atleta di tale calibro, fanno sapere dalla società Tolentinate. Marcello Guidi, che ha recentemente conquistato il secondo posto nel ranking mondiale di nuoto di fondo per la distanza sui 10 km e una splendida medaglia di bronzo nei 5 km agli europei di Belgrado, porta con sé non solo un bagaglio di successi ma anche un esempio di passione e impegno, che ha saputo motivare nell'incontro di questa mattina con gli atleti della piscina ad affrontare con grinta le sfide future. La società Tolentinate si sta intanto preparando con entusiasmo e fiducia all'avvio della nuova stagione, certi che l'esperienza e la presenza di un atleta di livello internazionale come Guidi contribuiranno a portare tutte le squadre di nuoto verso nuovi traguardi.